Ciao ragazzi, innanzitutto volevo dirvi che mi dispiace che avete frainteso questo mio video che era molto personale, non so come sia uscito. Volevo dirvi che io lavoro con il Milan quindi faccio il bene per il mio club. Poi sul messaggio era solo uno sfotto in famiglia, uno sfotto con mio zio che usiamo sempre prima e dopo le partite, non è niente contro i napoletani, contro Napoli, non è niente contro nessuno, era solo uno sfotto con mio zio ma era tutto per lui quindi mi dispiace che qualcuno abbia pensato male e frainteso queste mie parole. Io sono simpatizzante di Napoli come già detto ieri, non ho niente contro Napoli, anzi scendo volentieri giù perché giù sto bene, è la mia città quindi volevo dire solo questo, vi mando un abbraccio forte e un in bocca al lupo per tutto.